Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio di Serie C e della partita Pescara-Torres in programma domani alle 20.45. Zeman riconfermerà l'11 di Lucca, lo chiedo subito a Massimo Profeta che è qui accanto a me. Mi fai per cominciare una domanda difficilissima perché è chiaro che è davvero complicato capire le scelte di Zeman, siamo sempre nel campo delle supposizioni, però abbiamo provato con una schermata a capire se sarà la stessa formazione. Secondo noi sì, secondo noi darà seguito a quello che è stato domenica scorsa a Lucca, tra l'altro il Pescara ha giocato un'ottima partita, una partita che è stata equilibrata nei primi minuti, poi c'è stata l'espulsione di Tiritiello, il rigore a fine primo tempo, nel secondo, nella ripresa, non c'è stata partita. Quindi Zeman dovrebbe, usiamo il condizionale quanto mai di rigore, confermare l'11 schierato a Lucca. È una partita sicuramente molto attesa dal pubblico, sono previsti 8 mila spettatori domani sera all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Eccola qui la formazione che abbiamo ipotizzato, ovvero plizzari tre pali, Pierno, Brosco, Messic e Moruzzi, a centrocampo Tugnov, Squizzato e De Marco davanti Mero la Cuppone a Cornero. A Cornero davvero valore aggiunto insieme con Tugnov in questo momento. Dicevamo una partita molto attesa. Qualcuno ha fatto, Gigliola, anche il paragone con Pescara-Catanzaro dello scorso anno. 27 novembre 2022, 13 mila spettatori all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Il Catanzaro aveva tre punti di vantaggio sul Pescara come la Torres in questo momento. Perché la Torres guida la classifica del Giro Rebbi, però insomma il paragone secondo noi non regge perché il Catanzaro davvero lo scorso anno faceva un altro sport. Tant'è che si sta confermando anche in Serie B. La squadra dell'abruzzese Vincenzo Viverini è vice capolista dopo dieci giornate alle spalle del Parma. La Torres è sicuramente una buonissima squadra. Le virtù peculiari sono la solidità, l'aggressività, l'organizzazione, ma anche un'impronta offensiva. Ha realizzato 14 gol. È una squadra che è stata costruita molto bene. Non si sta lì davanti per caso. Assolutamente no. Guardate la classifica. Torres 23, subito dopo il Pescara che ha agganciato il Cesena a quota 20. Diamo uno sguardo anche alla probabile formazione della Torres. Intanto si deve dire, Gigliola, che ci sono tre assenze, direi, importanti nelle fila sarde perché non c'è l'esperto Idda ex Cosenza. Non recuperano neanche Liviero e Giorico. Sono di fatto tre titolari. Potrebbe cambiare il sistema di gioco. La Torres ha sempre utilizzato, nelle ultime settimane, in questo inizio di campionato, il 3-4-1-2, che è un sistema di gioco piuttosto offensivo perché oltre ai tre giocatori che giocano davanti c'è anche Zecca, che conosciamo perché ha avuto trascorsi nel Teramo, che è un giocatore che spinge tanto, ha una gamba importante sulla fascia destra. Potrebbe passare il tecnico Alfonso Greco al 3-5-2 con la rinuncia a Fischnaller, una delle punte del tridente, quindi davanti Ruocco e Scotto. Ruocco, un giovane molto interessante del 2001. Scotto è il capitano. 33 anni, quattro golli in questo inizio di stagione. Il trascinatore della Torres. Attenzione anche a Mastino, che è il giocatore di maggiore qualità della formazione sarda. Insomma, trascorsi in uno spezza, è stato anche compagno di squadra di Luca Mora, ha vinto un campionato di Serie B, ha anche lasciato un ginocchio, per così dire, all'Adriatico Giovanni Cornacchia, storia del 2019. Un infortunio gravissimo, rottura dei legamenti nel corso di Pescara-Spezia, che si concluse con il verdetto finale di 2-0 in favore dei Biancazzurri. Allora, allenati da Beppi Pillon. Concludo dicendo che l'arbitro dell'incontro è Michele Del Rio, della sezione di Reggio Emilia.